Riparbelli rimane al servizio Ace di Riparbelli e si chiude 15 a 11 una grandissima, grandissima rimonta del Bolle Soverato che sotto 2 a 1, 13-19 riacciuffa il quarto set e ribalta in tiebreak sotto 5-9 e conquista due punti importantissimi in ottica pool promozione, quindi in ottica seconda fase Con coach Matteo Soforati analizziamo questa sconfitta di Orvieto al tiebreak rimane sicuramente la mano in bocca per come si era messa la partita dai potenziali tre punti che potevate conquistare ad un certo punto tornate a casa con un punto solo, forse il ramarico maggiore è proprio questo Esattamente, il ramarico maggiore è il risultato e non aver concretizzato il vantaggio che ci eravamo creati sia nel quarto sia nel quinto set perché comunque abbiamo girato al cambio di campo avanti anche il quinto il quarto avevamo fatto un break importante a metà del set e purtroppo in entrambi i casi non siamo stati in grado di finalizzare secondo me una delle nostre migliori partite dell'anno e questo poi è difficile anche da spiegare alle ragazze fare capire che hai fatto una delle migliori partite e non hai vinto però ovviamente dall'altra parte c'erano degli avversari che fanno della loro organizzazione di gioco muro difesa un'arma letale sono disposti molto bene in campo e quindi mettono sempre le schiacciatrici in condizione di dover inventare qualcosa per poter fare il punto e soprattutto spinti da un bellissimo pubblico hanno avuto la forza di non mollare mai e di crederci e arrivati una volta punto a punto sugli ali dell'entusiasmo e sinceramente anche sulla foga del pubblico hanno messo giù a terra gli ultimi palloni Rimane comunque al di là del punto conquistando anche la buona prestazione su un campo notoriamente difficile come il Palascopa per voi un buon viatico anche in vista della prossima partita e prima poi di affrontare la pool promozione Sì sì come ho detto sulla prestazione c'è poco da dire nel senso che probabilmente a livello di gioco di qualità di gioco è stata una delle nostre migliori partite ci è mancato quel guizzo finale che a volte le squadre giovani possono commettere quell'errore di pensare che la partita sia chiusa sai quando non hai tanta esperienza di partite che pensavi che fossero chiuse di andarle a perdere può capitare anche questo è logico non è un alibi ma anzi una cosa su cui bisogna lavorare perché è un peccato sprecare prestazioni del genere senza trarne quello che probabilmente ci meritavamo non dico i tre punti pieni perché l'epilogo al quinto set secondo me era il risultato più giusto però per come hanno giocato le due squadre però visto che anche nel quinto set avevamo qualche punto di vantaggio forse avremmo meritato per la prestazione fatta essendo fuori casa qualcosina in più quindi il ramarico assolutamente c'è a mente lucida poi è fredda si analizzerà anche la partita e vedremo anche che abbiamo fatto delle ottime cose e quindi si va avanti è una squadra giovane deve imparare a crescere senza mai mollare senza demoralizzarsi il nostro obiettivo come quello di soverrato iniziale non era quello sicuramente di vincere il campionato fino adesso noi abbiamo fatto un bel percorso e quindi non ci possiamo sicuramente lamentare è logico che queste partite poi ti danno anche una spinta in più per il prosieguo però dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze dei nostri limiti perché anche quello è importante sapere sempre quali sono i nostri limiti e con umiltà mettersi in palestra a lavorare per finire nel migliore dei modi la prima parte e poi tuffarci nella polpromozione domenica scorsa con coach napolitano avevamo commentato in studio lì a domenica gol che la pallavolo è proprio così a volte rimonti tu a volte ti rimonta l'avversario domenica scorsa è stato rimontato il soverato questa domenica il soverato dà una grande dimostrazione di forza e di carattere rimonta a una partita che sembrava a un certo punto compromessa sotto 2 a 1 e 13-19 nel quarto invece la squadra ha dimostrato gran carattere e ci ha creduto sì ci piace alzare l'asticella perché secondo me oggi è stata la più bella partita vista al palascoppa e dicevamo questo anche domenica scorsa dopo la sconfitta quindi vuol dire che alziamo l'asticella e questo dal mio punto di vista cosa posso dire grazie alle ragazze perché non era facile ritirare in presto dopo la sconfitta con Sassuolo che ci aveva lasciato un po' la mare in bocca nonostante la buona prestazione hanno avuto la capacità di risollevarsi di tirarsi fuori dalla buca di fronte a un orvieto che secondo me ha fatto una partita eccezionale a un certo punto difendevano tutto non lasciavano cadere niente abbiamo avuto il merito di crederci e questa partita secondo me al di là dei due punti che sono importanti assolutamente vale doppio da un punto di vista proprio del capire che comunque queste sono ragazze che ce l'hanno dentro ce l'hanno dentro poi a volte possono magari come è successo al terzo set con Sassuolo fare l'errore a volte magari possono fare la cosa non fatta bene però cosa si può dire a queste ragazze io dal mio punto di vista posso solamente ringraziarle e credo che veramente rinnovo l'invito che ho fatto un po' di giorni fa questa è una squadra da amare da amare sempre a prescindere anche quando magari ci lascia un po' l'amore in bocca perché comunque è una squadra che sta facendo secondo me cose meravigliose credo che la fotografia di questa gara al di là degli aspetti tecnici e tattici possa essere quell'abbraccio quella corsa di Alice Tanase a coach napolitano dopo il muro ad uno realizzato sulla fast indice del fatto che questa squadra segue alla lettera le indicazioni del coach anche durante le strigliate nei time out è una squadra che oltre a non demordere mai rimane applicata segue le indicazioni questo è un aspetto non positivo molto positivo di questa stagione ma guarda sono io che ringrazio loro io ho sempre detto non sono gli allenatori che fanno grandi le squadre sono le squadre che fanno grandi gli allenatori questo è sempre stata una mia filosofia e la porterò avanti sempre perché lo credo veramente noi lavoriamo tutti i giorni quell'abbraccio è frutto di un lavoro di un percorso non è casuale ovvio che fa molto piacere ma è perché è l'apice di un lavoro che facciamo quotidianamente in palestra poi abbiamo la consapevolezza che a volte ci esce tutto bene a volte ci esce bene a metà e a volte magari facciamo la cosa non bene ecco quindi è importante capire che dietro una prestazione del genere ci sta un lavoro enorme che è il mio quello del mio staff quello di Diego di Antonio di Davide di tutti ma che è soprattutto delle ragazze questo io ci tengo a precisarlo perché è importante capire che queste sono ragazze che hanno questo indole questo istinto e non può essere una palla sbagliata che ci deve fare in qualche modo perdere l'amore per questa squadra ex di turno Giada Cecchetto torna a Soverato una bellissima partita di entrambe le squadre una vittoria al tiebreak di Soverato probabilmente per voi rimane la mare in bocca per quel quarto set avanti 19-13 ma comunque una buona prestazione come ha sottolineato anche il tuo coach in precedenza sì una bella prestazione direi che c'è stata una pallavolo di alto livello sapevamo che non sarebbe stata una partita facile anche perché come fondamentale principale sapevamo che loro battono molto bene difendono tanto quindi dovevamo avere molta pazienza rigiocare coprirci insomma sapevamo che non sarebbe stata facile è stata una partita portata al tiebreak l'amaro come dici tu ovviamente c'è perché quando si è lì e insomma si gioca alla pari poi dispiace quando poi non si riesce a portare a casa il risultato però siamo comunque sulla buona strada per fare bene Nota negativa probabilmente che così come nel quarto set avete subito una rimonta anche nel tiebreak a un certo punto eravate 5-9 il Soverato invece è stato bravissimo a crederci sempre a non mollare mai voi forse vi siete un po' disunite sulla rimonta del tiebreak effettuata da Soverato sì purtroppo ci capita quando abbiamo tanti punti di distanza poi ci sono magari quelle due o tre azioni in cui magari facciamo un errore stupido tra virgolette e questo ci pesa tanto quindi dobbiamo crescere molto ancora su questo aspetto abbiamo un gruppo molto giovane quindi che questo ci serve di lezione per nel momento di difficoltà riuscire a tirare sulla testa e non scoraggiarsi Soverato è stato bravo perché comunque ci ha creduto fino alla fine però comunque è stata una bella partita infine sensazioni per questo tuo primo ritorno da ex qui a Soverato sensazioni strane nel senso che vabbè io mi ero trovata bene qui e ovviamente una parte di me è rimasta qua è stato strano rigiocare nello stesso palazzetto dove comunque abbiamo sudato fino ai playoff fino a qualche mese fa quindi una bella sensazione insomma è stata una partita difficile anche un po' diciamo a livello emozionale però insomma sicuramente faremo bene lavoriamo continuiamo a lavorare in palestra e vedremo insomma come andrà da una Giada all'altra da Giada Cecchetto a Giada Boriassi una delle protagoniste di questa bella vittoria del Soverato una vittoria sicuramente di carattere innanzitutto perché oggi ne avete dimostrato tanto dicevamo con coach Napolitano a volte le rimonte si fanno poi si subiscono questa volta il Soverato dopo averla subita domenica scorsa l'ha fatta ma diciamo che è stata una vittoria importante soprattutto perché sono due punti per la classifica in ottica futura pesantissimi esatto noi sapevamo l'importanza di questa partita perché appunto come hai detto tu in ottica del prossimo girone è molto importante questi due punti li abbiamo sudati sapevamo che non era una partita facile siamo state brave soprattutto perché ci sono stati tanti momenti di difficoltà nella partita ma con la testa siamo sempre riusciti a gestire a portarci a casa appunto i due punti finali ecco probabilmente solo nel terzo set c'è stato un calo anche di concentrazione del Soverato perso malamente poi nel quarto dopo quel break di Orvieto voi vi siete un po' rianimate c'è stato quel time out duro di coach Napolitano che probabilmente vi ha dato la scossa sì esatto ci siamo unite cosa che ci capita dobbiamo lavorare su questo nel senso che dobbiamo essere sempre brave dopo una scossa a unirci e magari a non disgregarci però oggi siamo state veramente brave possiamo dire che questa è una squadra che comunque continua a sorprendere perché veramente sta dando grandi soddisfazioni a questi tifosi e a questo ambiente sì c'è solo vedere il tie break sotto 9-5 i muri e gli attacchi di guidi e le due battute di Riparbelli all'ultimo che ci hanno regalato la vittoria beh che dire brave ci siamo sorprendenti e le due battute